Ehi tu ma, non ti fanno il collo con la televisione di quella posizione tutta l'interessa? C'è una del tuo? Ma no, ci vorrebbe un bel divano, lo trovo in soffato, un belisimo. Ah, ma ti stendi che mi piace. Scrivi, mi metto alla pagina della gestione. A soli 640 euro. Sulla, anche a volte a me. A 830 euro. Il mio amore, questo si impegno solo a 1048 euro. In pochino e sopra, uomo, con il mio prezzo sulla collezione autunica. Se non ho avuto, sono segno di un ragazzo detto. Non mi dico perché, è il suo? Molto e sopra artigiani della qualità. A chi sopra il mondo di un altro, è un nuovo donato di fare collezioni. A chi sceglie la morbidezza del pane king. E la grado all'arte. Kinder Pioz. Piace a tutti i bambini del mondo. E la grado all'arte. E la grado all'arte. La roba di genio superiore. E la coppia insieme a solo 699 euro. E che sconti. Mieva batte forte sempre. E la grado all'arte. In che ci sono, Polina, il divertimento è assicurato. Non in questo momento per me 100% non doverà. Assicura il piccolo che ci viene domandato. Grazie. 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 Grazie.